Benvenuti! Ciao! Ciao a voi e ciao a te! Benvenuti alla nostra rubrica intitolata... C'è una volta! Io sono Costanza e con me vi saluta... Giorgia, Elisa, Fabrizio. Siamo pronti con la nostra bella attività che voi sapete, coinvolge tantissimo la nostra fantasia. Cosa dobbiamo fare ancora una volta, cari ragazzi? Dobbiamo... Fare il riscaldamento! Oh, ma prima del riscaldamento? Ok, il riscaldamento per che cosa? Per la fantasia e la fantasia! Quindi vuol dire che dovremo inventare la nostra bella storia. Noi sappiamo, ormai siamo abituati, siamo dei veterani, abbiamo il nostro libro vuoto da riempire con il nostro titolo. Ma adesso su, via! Mettiamoci subito al lavoro. Cominciamo con il nostro riscaldamento della fantasia che si fa rigorosamente con gli occhi... Chiusi! Chiusi! Molto bene! Allora, chiudo gli occhi io, tu, 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 tu... e anche tu da casa. Pronti? Partenza via! Mi fido? Occhi chiusi? Sì! Molto bene! Oh, ho trovato qualcuno che voleva fare la furbetta! Dai, su, occhi chiusi! Adesso sul serio! Sul serio le ho anch'io, quindi non posso più controllarvi. Cominciamo! Testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi aperti. Diamo il via al... Fantasia! Molto bene! Siamo cercano le... Siamo pronti? Allora, siamo concentrati, la nostra fantasia l'abbiamo ormai riscaldata, molto bene, e iniziamo a costruire la nostra storia. Dal momento che la scorsa volta ci divertimmo tantissimo a costruire una storia con le paroline, oggi faremo lo stesso, perché ci è piaciuto tanto, ci divertimmo, vero ragazzi? Sì! Allora, poi te lo vogliamo fare anche oggi. Molto bene! Pescheremo non tre oggetti, ma tre paroline con le quali costruiremo la nostra storia. Non so quale parolina voi pescherete, non so quale storia non uscirà fuori, ma sono sicura che sarà tutto divertente. Cominciamo! Oggi la mia borsina che si chiama... Ina! Ina, la borsina, la consegno a Fabrizio, vai caro! Dovresti pescare, mi ricordate la scorsa volta, un borsellino piccolino con delle paroline? Dov'è, dov'è? Cerchiamo! E la borsa sembra piccola, l'ho detto anche la scorsa volta, ma è piena, piena di cose, profonda! Molto bene, hai pescato un borsellino, grazie, puoi anche riconsegnarmi Ina perché vuole tornare al suo posto qui e comincia a pescare la tua bella parolina. Prego! Ci sono delle paroline magiche che daranno vita ad una storia, chissà poi a quale, vi posso assicurare che non lo so neanche io. Ci sono dei biglietti magici di colore giallo con una bella scritta. Ok, allora, fatto! Molto bene! Ah, il soffio magico per rendere magica la nostra storia! Molto bene, cominciamo! Fabrizio, a te è uscita la parolina? Vediamo, io non lo so. Io l'ho già letto. Bottiglia. Ah, ok, abbiamo la parola bottiglia, vogliamo mostrarla ai tuoi amici a casa? Sì. Molto bene, abbiamo la parola bottiglia. Beh, Giorgia, vedo che la tua parolina ti fa ridere. Elisa, a te è uscita la parola? Barca. Barca, bottiglia, barca, iniziamo già a pensare. Me la vuoi dare così la mostrano? Molto bene, guarda, ecco Barca, inizia a pensare anche tu. Autobus. Ah, beh, beh, qui di fantasia ce ne vuole un bel po', perché da una barca con una bottiglia dobbiamo arrivare ad un autobus. Allora, iniziamo a pensare, vuoi darmi anche tu il tuo biglietto? Ok, perfetto. Allora, cominciamo, abbiamo autobus. Allora, inizio io, inizio io. Ok, iniziamo. Ma dobbiamo creare una storia che farà ridere, ci proviamo. Sì. Allora, beh, dovrà essere comica? Ok, allora. C'era una bottiglia di acqua lasciata sola e abbandonata in strada. In una barca. Oh, in strada. Cominciamo? Dai, questa volta facciamo l'inverso, solitamente ci tuffiamo nel mare. Questa volta ho pensato questa bottiglia potrebbe iniziare il suo viaggio in strada. Una povera bottiglia lasciata in strada, buttata così, da sola, abbandonata e dentro cosa conteneva? Dell'acqua, ma è assolutamente vuota e sola sola. Cosa vuole fare questa bottiglia? Vorrebbe? Andare sull'autobus. Perché? Sull'autobus cosa vuole viaggiare? Perché vuole viaggiare. Oh, che bello. Mi piace questa cosa quando si parla di viaggio. Sono felicissima. C'è la prima bottiglia al mondo, ve la presento io, la prima bottiglia che vuole viaggiare e vorrebbe girare anche il mondo. Dove vorrebbe andare Fabrizio? Pure vicino all'oceano, vicino al mare e quindi dovrebbe avere anche una barca. Ok, allora cominciamo. Innanzitutto il nostro viaggio parte da... Da dove parte questo viaggio? Dalla strada. Inventiamoci un nome di fantasia di un paese di fantasia. La strada che si chiama la via... Sì, sì. La via dei... Del sole. La via del sole nel famoso paese... La via delle vantiglie. La via del sole nel famoso paese... Il mare. Del... Come si chiama questo paese? Il paese di... Fantastic. Di Fantastic. Abbiamo un paese che si chiama Fantastico con una via che si chiama via del sole in cui c'è una bottiglia che ovviamente ce l'ha le gambe. Sì, sì. Facciamo finta che ha solo due piedi. Bah, che cammina, cammina, cammina e vuole girare il mondo. Quindi, per prima cosa, passato un autobus, ci sale sopra. E come fa a salire sull'autobus? Questo dovreste dirmelo voi. Con il carino. Saltando. Saltando? Ma ci salta... Salta al volo? Oppure aspetta una fermata? Aspetta una fermata. Ok, aspetta la fermata... No, anzi al volo. Al volo. Ok, quindi l'autobus si ferma, la via del sole nel paese di Fantastic si ferma, ma la bottiglia dice, no, io amo l'avventura, devo prendere l'autobus al volo. Aspetta che l'autobus parte e con i suoi piedini, tutto tutto tutto, rincorre l'autobus, mi sembra di vederla, questa bottiglia che rincorre l'autobus, fortissima. Mi fa tanto ridere, visto? Abbiamo fatto una storia che fa ridere. Immaginando. Immaginate questa bottiglia che con i suoi piedini, corti corti, va bene, raggiunge un autobus e ci salta sopra. E dove va? Va sopra il tetto? Va sopra dove si mette questa bottiglia? Sopra il tetto. Sopra il tetto. Poi c'è un finestrino aperto, scende, 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 si fila dentro e va a posizionarsi tra i piedi di un'anziana signora che aveva una busta della spesa. Si nasconde lì dietro, così quando arriva il controllore non gli fa... Pagare la busta. Esattamente. Va a nascondersi dietro la busta dell'anziana signora, così non pagherà... Nella busta si tuffa in un mare magico, dove c'è una barchetta. No dai, ma è bellissima questa storia. Ok, abbiamo un autobus che tanto tanto autobus non era, parliamo di un auto magico autobus. Perché questo autobus su cui salivano solo persone magiche? Beh, ce n'era una che era un'anziana signora con una busta attraverso la quale si poteva addirittura entrare nel mare. Oh, ma un viaggio migliore di questo non si potrebbe avere per la nostra cara amica bottiglia. Però, guardate, abbiamo dimenticato un particolare. Il nome. Bravissima, Elisa. La nostra bottiglia come si chiama? Iglia. Iglia, Iglia. Ok, la nostra bottiglia Iglia che fa? Trova la busta. Si nasconde per non pagare il vieto. Che non si fa, assolutamente non è giusto, ma facciamo finta che nella fantasia... Una bottiglia, io lo concediamo. A noi, no. Ma la bottiglia lo possiamo concedere. La bottiglia si tuffa nella busta e cosa succede? Cosa c'era in questa busta innanzitutto? Cosa c'era? C'era l'anziana signora che si aveva comprato. De pesci. De pesci e poi che altro? Una calamaro. Ah, aveva comprato anche dei calamari, molto bene. Delle bambiglie. Ok. Tutte cose del bambiglie. E dei cefali. E dei cefali. Ah, aveva comprato anche dei cefali. Dunque, succede... Una serena. Ok, addirittura, tutto nella busta magica. La bottiglia si tuffa praticamente nella busta. E vede tutti questi personaggi veri che... Quindi si rianimano. Però lei non sa nuotare. Quindi gli serve una barca. Ah, molto bene. E trova una barca lì dentro di giocattolo di plastica. Ah, allora, perché probabilmente questa signora anziana, voi non lo sapete, adesso ve lo spiego io, aveva un nipotino a cui voleva regalare una barchetta di plastica. Ma questa barchetta, poiché il paese si chiama Fantastic, era una barchetta magica che permetteva di andare nel mare. Quindi sale sulla barchetta ad un certo punto. Il calamaro che la signora voleva cucinare al vino, all'inforno per la sera, si rianima. E spinge questa barchetta di plastica addirittura nel mare. Quindi troviamo la nostra iglia, la bottiglia, che addirittura arriva nel mare. E qui ci piace. Questa barca, come era fatta? Immaginiamola. Era una barchetta di plastica piccola che la signora regalava. Era una barchetta, era un'altra rossa. Con delle stelle sopra i bordi. Ok, ci piace. È molto, molto carina questa barca. E ha anche una tenda? Com'è fatta? Ha una tenda sola. Una vela? Teneva una specie... È una specie di casa, un tetto di aquilone. Ok, aveva questo tetto fantastico. Una casa sopra la barca. Un aquilone sopra la barca. Ah, io credo esattamente che con questo aquilone la barca poteva andare più veloce perché le barche magiche non hanno mica le vele per camminare nel mare. No. Le barche magiche hanno gli aquiloni. Non lo sapevamo? L'abbiamo scoperto adesso. Le barche magiche avevano degli aquiloni per poter andare nel mare incantato. E poi se voleva riuscire usava l'aquilone col vento. Ecco, esattamente. Poiché questa bottiglia viaggia nel mare fa questo viaggio lunghissimo dove incontra tanti personaggi ad un certo punto. Poiché lei è una bottiglia che è abituata a vivere sulla terraferma per ritornare a terra utilizza... L'avete detto adesso? La barca. Sulla barca cosa c'è? L'aquilone. Utilizza l'aquilone. Allora abbiamo descritto la barca. Lo scafo della barca l'abbiamo descritto. L'aquilone di che colore era? Rosso. Era rosso. Dunque, Iga, la bottiglia, dopo chi ha fatto questo viaggio nel mare decide di ritornare alla terraferma perché poi in realtà il paese fantastico non era poi tanto male. Dunque... Ma per andare lì... Andò... Andò l'aquilone. Andò in un altro paese che era un altro paese che volevano bene che volevano bene alle bottiglie. Ah, quindi... E' il paese delle bottiglie. Era il paese delle bottiglie. Bottic. Il paese di Bottic delle bottiglie. E cosa facevano queste bottiglie per essere volute bene? Probabilmente... Ci metteranno dentro la coca e tutte... Venivano riutilizzate. Era la bottiglia... Quasi non morivano. Bottiglie sì che venivano riutilizzate per nuovi scopi. Quindi era un paese Bottic era un paese importante perché venivano riciclate le cose. In quel paese c'era una bambina che diventò sua amica. Ah, una bambina che aveva... Bottiglia. La bambina Bottiglia. E come l'ha fatta questa bambina? Bottiglina. Bottiglina. La bambina che si chiama Bottiglina. Perché era come una bottiglia. Ah, ok. Molto bene. Allora, la nostra bottiglia la bottiglia fa amicizia con Bottiglina la bambina la quale porta Ia a passeggio per il paese di Bottic. E cosa scoprono? Tante altre cose. Tipo, cosa c'è? Abbiamo detto questo è il paese del riciclo dunque le bottiglie vengono riutilizzate. La carta viene riutilizzata. Il plastic free. Ah, plastic free. Dunque vuol dire... Quindi le bottiglie vengono riutilizzate in vetro. Molto bene. Questo è un paese magico perché le bottiglie vengono trasformate in vetro e così possono essere riutilizzate tantissime volte non vengono gettate e ci sono le persone che le utilizzano sempre così non se ne fabbricano altre e così non si riempie il paese del mondo di tante bottiglie. Mi piace. Quindi è un paese bellissimo questo Bottic. Molto molto bello. Però ad un certo punto la nostra amica Ia la bottiglia vorrebbe ritornare a casa. E quindi cosa succede? E riprende l'autobus. La bambina la bambina la bottiglia riprende l'autobus e cosa fa? La riporta nel suo habitat. Nel suo paese che ricordate si chiamava Fantastic. Ritorna a Fantastic e ha una missione quella di raccontare alle sue amiche bottiglie cosa succede nel paese che abbiamo chiamato Bottic. Racconta a tutte le sue amiche che è possibile avere un mondo in cui si possa riciclare e in cui la plastica trasformandosi in vetro non deve essere buttata non deve essere rotta o utilizzata per altre cose ma può ritornare a vivere sotto altre specie. E questa è la storia della nostra bella bottiglia. Allora diamo un titolo a questa bottiglia? Bottiglia che viaggia. Ok Bottiglia che viaggia Ia la bottiglia che viaggia sull'autobus sull'autobus volando su una barca e incontra e incontrando una bambina di nome le bottiglina una rima dobbiamo darla ok allora io direi di sintetizzare un po' allora cominciamo Ia la bottiglia prego ok allora Ia la bottiglia Ia la bottiglia Allora Ia la bottiglia sale su un autobus poi concludiamo su un autobus incontra una signora lo scrive Lisa incontra una signora una bambina perché sull'autobus c'era un'anziana signora incontra una signora incontra una signora e il viaggio dura fino ad ora perché abbiamo detto che il viaggio della bottiglia è finito da poco incontra una signora e il viaggio dura fino ad ora passa a Fabrizio e il viaggio dura fino ad ora dura fino ad ora molto bene ci piace questo titolo? a te piace? io trovo che sia molto creativo e soprattutto la storia che abbiamo raccontato è molto particolare molto attuale e quindi ci è piaciuta tanto fino ad ora adesso la leggiamo insieme e poi ci salutiamo allora dunque via la bottiglia sale su un autobus incontra una signora e il viaggio dura fino ad ora beh anche oggi ci siamo divertiti io vi saluto e al prossimo appuntamento con Costanza Giorgia Elisa e Fabrizio ciao grazie a tutti grazie a tutti